Al via il rimborso dei biglietti dell'autobus. La Giunta regionale ha approvato il provvedimento unico in Italia che disciplina le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, acquistati ma non utilizzati a causa delle restrizioni nel periodo di lockdown. In linea con quanto disposto dal Governo nazionale, concordato tra le regioni, è prevista l'emissione di un voucher di importo calcolato sulla base dei giorni di mancato utilizzo dei biglietti. In Abruzzo però si potrà anche richiedere il rimborso in contanti. In particolare potranno richiedere i soldi in mano gli studenti di scuole superiori o universitari al termine del ciclo di studi, con apposita attestazione dell'istituto scolastico, oppure i lavoratori che hanno cessato l'attività o il rapporto di lavoro, sempre con apposita attestazione da parte delle agenzie delle entrate o del datore di lavoro. Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro il 31 di agosto sui siti internet delle aziende di trasporto. Il rilascio del voucher avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, più tempo invece occorrerà per i soldi in contanti, per i quali il termine è fissato a 60 giorni dalla domanda.